Benvenuti a Dietro la Notizia. Oggi parleremo nel nostro approfondimento giornalistico dei disagi e della conseguente protesta dei numerosi agricoltori in tutta Italia e non solo. Revisione del green europeo, contrasto alla concorrenza soleale e alla diffusione di cibi sintetici e il riconoscimento del valore del made in Italy. Sono in sostanza queste le motivazioni che, come sapete, hanno spinto i trattori a marciare verso Roma. Di tutto questo ne parleremo con chi vive questi disagi tutti i giorni, subito dopo la sigla. Sigla! Bene, torniamo in studio. Dopo la sigla andiamo subito a presentare gli ospiti che sono due imprenditori agricoli, naturalmente, che sono Giuseppe Pacelli, benvenuto. Grazie, buonasera. Salvatore Cusano, benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera. Ecco, perché della protesta l'abbiamo detto, ma c'è sicuramente dell'altro, tanti disagi che voi ovviamente state subendo. Intanto andiamo a conoscere innanzitutto le vostre aziende. Incominciamo da Cusano. Quando è nata la sua azienda, che cosa fa in particolare? Allora, io mi ritengo un vecchio contadino e un giovane imprenditore, perché ho vissuto questi passaggi che non si vedono spesso, diciamo, né nell'agricoltura né in altri settori. Allora, la mia azienda è stata iniziata da mio padre, che è stato anche lui un coltivatore, io mio fratello, e diciamo intorno agli anni Ottanta, perché nell'Ottanta abbiamo avuto qualche cosa dal governo, dall'Ispettorato Agrario, abbiamo fatto delle pratiche, quindi abbiamo allargato per la prima volta la stalla. Mi ha consentito, diciamo, di investire. Sì, e abbiamo fatto questo passaggio. Ci hanno dato la dicitura di latte di alta qualità, facendo queste cose. Quindi il latte ci veniva pagato anche di più. Poi nel 2000 abbiamo, con i miei figli e io poi, diventato ancora più esperto, abbiamo fatto un altro PSR e abbiamo avuto altre sonvenzioni. E così abbiamo allargato la stalla, che siamo arrivati a una sessantina di animali. e facendo questo latte di alta qualità conferiamo a questo caseificio Costanzo che vediamo, vediamo i frutti, vediamo i prodotti qua, i caciocavalli, i vari prodotti caseari. I vari prodotti caseari. La sua azienda esattamente che cosa produce? Noi produciamo latte di alta qualità e animali da carne. Dove si trova l'azienda? A Rubiano, sulle colline di Rubiano. Di Rubiano, molto rinomato. Sì, zone che ci dispiace proprio se vengono abbandonate, perché come corrono i tempi non ci riusciamo più a recuperare, quindi i nostri figli ci abbandonano. Sì, il pacelli, invece lei? Allora, la mia azienda agricola è nata nel 1970, in mano a mio padre, poi l'ho ereditata io. è rimasta con me. Però i miei figli, sempre un'azienda zootecnica, produciamo latte e carne, però abbiamo pure parecchio terreno che possiamo produrre cereali, tipo grano, grano duro, ortofrutta, insomma qualsiasi cosa che... Siamo attrezzati un po' per produrre parecchi prodotti. Però attualmente diciamo che ho due figli maggiorenni, però mi sembra che loro li vedo insicuri, perché come sta andando la situazione agricola, come si stanno trattando a noi agricoltori, loro non vedono un futuro in questo settore, non si sentono neanche realizzati. Infatti mi dicono, dice papà, ma tu che vuoi fare, perché tu il futuro non c'è, non guadagniamo niente, ci stanno mettendo sotto i piedi, preferiscono i prodotti esteri, a noi i prodotti nostri non vengono valutati per gli sforzi che facciamo, per fare prodotti di qualità, prodotti eccellenti e tutto, non veniamo neanche, come si dice, valutati per quello che facciamo, per il lavoro che facciamo e l'attenzione che portiamo a produrre questi prodotti. Quindi non riuscite nemmeno a rientrare con le spese, non c'è il riscontro economico. E' certo, il riscontro economico. Le problematiche che abbiamo più grandi dell'azienda sono gli aumenti tra energia, gasolio, spese varie e tasse di tutto. Per quanto riguarda il gasolio? Prodotti che noi servono di prima necessità per mangiare gli animali, per la cultura agricola. Scusi, per quanto riguarda il gasolio, mi sembra che il governo nazionale ha bloccato praticamente il fatto... Dovrebbe togliere le accise, speriamo. Dovrebbe togliere le accise. Per questo è un po' incontro. Ma su piccole cose, a noi interesserebbe pure utilizzare i PNRR, ma utilizzati semplicemente alle aziende che realmente ne hanno bisogno e le aziende che vogliono lavorare e portare avanti. I PNRR possono essere utilizzati facilmente in azienda con macchine elettriche, incentivare l'agrivoltaico che si può installare, altri sistemi che servono per tutelare l'ambiente. e risparmiare soprattutto il gasolio, perché il gasolio, visto che ce n'è poco, costa caro. Noi siamo propensi a sostituire questo prodotto. Lei ha sentito parlare proprio in queste ore dell'insalata, la coltivazione senza sole, senza terra, senza luci. Nei frigoriferi, nei gazzetti. Le culture idroponiche. Le culture idroponiche. Mettono l'acqua, ci mettono i toncimi chimici. Uno per volta altrimenti non riusciamo. Le culture idroponiche sono delle culture che riducono lo spazio, non c'è bisogno della terra, riescono a recuperare l'acqua, però c'è bisogno di mettere dei prodotti all'interno che crescono sinteticamente. Sì, sono dei prodotti... Dobbiamo ancora vedere, mangiando il nostro corpo, mangiando questi prodotti, che effetto fa. Se quei prodotti che stanno nell'acqua un giorno ci possono danneggiare o meno. Sol Cusano, della farina di grillo, lei che ne pensa? È una cosa vergognosa. Ma lei la mancerebbe? No, no, ne parliamo proprio. Noi abbiamo tante eccellenze, soprattutto la Campania, siamo la prima regione al mondo. Ma dicono che sia pure più proteica, quindi ci dà più proteine, più energia. No, ma sono tutte bugie, che se la mangiano loro, loro se la debbano mangiare. Io la ritengo... Lei produce la farina, no? Non di grillo, però. Sì, di grano, la farina di grano. Quale grano? Chiedo scusa, quali grano? Noi abbiamo coltivato per due anni, da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, i nostri politici hanno detto che non avevano grano, non si poteva produrre pasta, pane e altro, e ci hanno invogliato a mettere il grano. E abbiamo... siamo diventati produttori di grano e per il primo anno ce l'hanno pagato abbastanza bene perché non ce n'era e ce l'hanno pagato. Poi la Russia ha liberato i mercati e ha fatto passare il grano dall'estero e il nostro grano lo teniamo tutto in granaio. Non l'hanno voluto proprio perché dice che è meglio il grano del Canada seccato con il glifosate, con i diselbi, è meglio il grano dei paesi dell'estero, chissà che tipo di concimazione, di serbi e altro che ci fanno. Il nostro grano, noi facciamo le culture, le rotazioni sulle culture, quindi automaticamente non abbiamo bisogno né di troppi concimi né di serbi. Che significa la rotazione sulle culture? La rotazione della cultura è che tu una volta ci metti l'erba metica, dopo l'erba metica che il terreno rimane pulito da infestanti e piani di grano. Il grano viene su una bellezza, senza cocime, senza pesticidi, senza nessun tipo di di serbo e altro. È naturalissimo, naturalissimo e va bene. dopo il mais mettiamo le graminacee, dopo quelle facciamo delle rotazioni con degli assistenza di agronomi che ci evitano di fare questo tipo di danneggiare i terreni, soprattutto. Scusano, lei è sceso in campo col trattore o no? Ha partecipato? No, no, questo sciopero qua no, gli altri più o meno, perché adesso stavano troppo lontani. dovremmo fare 150. Diciamo Santa Maria Capovente che è 250 chilometri. A Benevento siamo stati. Abbiamo partecipato come solidarietà perché è stata una cosa importante comunque. Ma infatti non si sa alla fine come andrà a finire, quali saranno i risultati, però al di là dei rompi dei trattori mi ha fatto rumore moltissimo. È vero, però come finirà questo sciopero? Finirà che se noi non ci danni i soldi è finita l'agricoltura, perché noi investiamo mille euro e ne guadagniamo 500. Allora lo possiamo fare per un anno questo, ma dopo è finito, stiamo tutti sul lorlo del fallimento. Lei mi diceva che è veramente scoraggiato da questa situazione che addirittura pensava di chiudere. si, 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 no, no, perché noi purtroppo i nostri prodotti l'abbiamo detto anche prima sono delle eccellenze, non sono prodotti come quelli che vengono dall'estero e che non valgono quattro soldi. Fanno i politici, fanno queste, si mettono d'accordo con i mercati, con le cose in cui non è noi. Ad esempio a noi ci vogliono mettere i terreni che non dobbiamo produrre, poi fanno il contratto col Brasile che dobbiamo comprare il mais dal Brasile ma il Brasile non ce l'ha il terreno perché sta distruggendo la foresta dell'Amazonia che è il polmone di tutto il mondo ma le vogliono capire queste cose o non le vogliono capire queste? Senda, se lei dall'altra parte ci fosse la Meloni presidente del Consiglio che cosa le vorrebbe dire adesso? Le vorrei dire che deve prendere dei provvedimenti deve visitare un'azienda griglia deve visitare e si deve rendere conto perfettamente perché deve venirci a trovare a me la cosa più brutta che capita non è nemmeno che ci perdiamo ma che stiamo distruggendo le famiglie queste famiglie che sono migliaia di anni che hanno portato avanti intera generazione scompariranno e non si ricreeranno più queste famiglie che patriarcali diciamo è finita perché noi non lavoriamo per i soldi noi lavoriamo perché abbiamo la passione e per vivere ci alziamo a mezzanotte all'uno due giorni non dormiamo gli altri ritorni ci prendono per fessi invece non hanno capito niente se ne renderanno conto quando non avranno più l'aria per respirare se ho passato prego io tornando sul fatto della farina di insetti sono un po' preoccupato a livello mondiale col mio piccolo diciamo pensiero perché a volte queste farine vengono da zone diciamo che non sono controllate dalla comunità europea avide di denaro di fare denaro business e altro quindi potremmo trovarci una categoria di insetti una categoria di di infestanti eccetera che ci potrebbe danneggiare mangiare il mondo intero tipo come il covid tipo come il covid oppure diciamo come ci sono stati gli assalti di cavallette come ci sono stati gli assalti di formiche di ape se ho passato lei i gamberetti li mangiano? qualche volta sì e allora dobbiamo mangiare pure i... no quello là no una volta sì ma quello là no gli insetti assolutamente non sono nella mia dieta alimentare ecco per esempio i prodotti invece che avete già avete già prodotto chiedo scusa per il disticcio come pensate di metterli sul mercato come pensate di venderli ma quello diciamo qualche nostro collega si è adibito a fare le vendite dei prodotti a chilometro zero allora più o meno ci stanno dentro però non possiamo fare tutti quanti la stessa cosa si salva qualcuno facendo così e non possiamo fare tutti quanti la stessa cosa perché allora noi abbiamo il problema della grossa distribuzione la grossa distribuzione è un si è creato un sistema che per un centesimo si va a prendere il prodotto all'estero e non il nostro piazzando un prodotto a banco senza qualità senza tracciabilità senza diciamo così senza nessuna cosa solo per i soldi volevo intanto approfittare per dire che questi prodotti che noi vediamo esposti sono della cantina di Tommaso di Sant'Angelo da Life l'azienda zootecnica Pacelli e l'azienda zootecnica di Salvatore Cusano e l'azienda Costanzo che è un caseificio che trasforma il mio latte e fa questi prodotti caseari vuole aggiungere qualcosa altrimenti siamo alla fine allora io volevo dire una cosa una cosa solo noi facciamo tanto parliamo di questo sciopero chi va chi non va siamo diciamo quasi tutti i coltivatori però il vero sciopero non lo dobbiamo fare noi debbano essere i cittadini la popolazione mondiale che si deve rifiutare che non deve bere il latte sintetico che non deve mangiare la carne sintetica perché se no l'umanità è finita e questo è quello che si deve combattere perché chi va a comprare non le sa queste cose gli dicono un sacco di bugie una domanda per chiudere complessa che cosa pensate di fare? noi non lo so noi abbiamo già un'età quindi bene o male cerchiamo di resistere se possiamo resistere se non si può resistere si chiude e ci ferberemo io già al periodo covid ho fatto una che pure avevamo un problema sul latte era un problema di covid va bene ho mandato al macello un sacco di animali e mi sa che con i 5 centesimi di ribasso che ci stanno attuando in questo periodo per il litro latte sul litro latte ci stanno attuando un ribasso di 5 centesimi con l'aumento dei prezzi e tutto il resto noi le vacche se non le possiamo alimentare è giusto non possiamo sostenerle eccetera le mandiamo al macello beh certo ci sarebbe ancora da parlare allora io per quanto riguarda me tra qualche anno va di pensione quindi non sarebbe un problema però io combatterò sempre fino alla fine anche perché non voglio vedere i miei figli che debbono abbandonare il sud per andare a fare gli insegnanti al nord o altre cose siamo così bene giù qua dove i borboni diciamo dominavano l'Europa hanno fatti i primi orti botanici le prime cose le prime cose di grano diciamo selezionale hanno fatti i borboni con l'autonomia il senatore Cappella e la la sel come si chiama la sel 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 e con la segale diciamo sono delle cose che bene allora chiudiamo qui la nostra trasmissione per oggi grazie ai nostri ospiti alla regia e a voi che ci seguite da casa grazie alla prossima sigla grazie a tutti grazie a tutti